Scrive la situazione, i marittimi italiani a casa a fare la fame, gli extracomunitari su una nave italiana, sul territorio italiano a fare la fame direttamente a bordo. Ecco, a fare la fame a bordo però come si potrebbe fare a sbloccare questo lavoro italiano, cioè a incrementare questo lavoro? Voi avete presentato spesso delle esigenze, delle piattaforme, delle richieste, ci sono state manifestazioni di marittimi importanti, però dice lei poche risposte. Quali sono i punti chiave, i punti importanti che oggi dovrebbe affrontare un governo? Oggi non c'è, ma ci sarà. Direttore, dobbiamo fare un tuffo nel passato. Andiamoci. Allora, c'è una vecchia legge ancora in vigore del 98 che dà a noi armatori un grande privilegio, questo ne lo sanno pochissimi in Italia, noi praticamente abbiamo la quasi totale defiscalizzazione. Traduciamo, non paghiamo le tasse, abbiamo sgravi IRPF e IMPES per i nostri marittimi, quindi delle agevolazioni fuori dai confini di quello che è l'industria italiana. C'era un solo obbligo di legge, quello di imbarcare prevalentemente marittimi del nostro Paese, oggi con un trattino comunitari. Quest'obbligo, con il passare degli anni, gli armatori lo hanno disatteso, con accordi anche sindacali ad hoc. I marittimi italiani sono stati lentamente, inesorabilmente sbarcati. Per una questione di costi? Per una questione di costi, perché chiaramente... Rispettando tutte le regole, il lavoro costa, senza rispettare, oppure in qualche maniera facendo un lavoro diverso tipo, il lavoro può costare meno, però è anche una cosa fuori regola. Dove non c'è stata mai attenzione la situazione di questi marittimi extracomunitari sulle navi, perché noi stiamo parlando dello schiavismo e della schiavitù del terzo millennio. Oggi il marittimo italiano o comunitario ha un rapporto diretto con la compagnia. Se noi assumiamo una persona, noi al 27 del mese paghiamo come tutti i 5 mila lo stipendio. Su una nave italiana, se si vuole un extracomunitario, viene assunto attraverso società di manning, quelli che io chiamo i mercanti attuali di schiavi del terzo millennio, che hanno sede sempre in paradisi fiscali. Per cui si dice, mandami mille marittimi della tale nazionalità, e quelli te li mandano. Poi si paga la società di manning, non al marittimo. Per cui quello che poi realmente arriva in tasca al marittimo, quello lo sa solo Dio. Il marittimo va a bordo, imbarca con il passaporto, consegna il passaporto, lì diventa un prigioniero fino al momento del suo sbarco. Ci ha raccontato un'altra realtà del traffico di esseri umani e dello schiavismo. Una la conosciamo attraverso i barconi che passano dalla Libia, che arrivano sulle nostre coste. E quella è Forza Lavoro che viene sbattuta qua e che viene usata anche in questo caso per abbassare il costo della Forza Lavoro italiana. In concorrenza l'ha visto, ha visto decine di episodi. E poi c'è una Forza Lavoro addirittura a disposizione per chi vuole fare il mestiere che fa lei, cioè armare delle navi per portare passeggeri e merci, in cui vengono dati in affitto altri, tra virgolette, schiavi. Perché lei paga l'affitto a chi... Cioè l'armatore dovrebbe pagare l'affitto a chi li procura, no? Sì. Senza tenere conto dell'orario. Senta, lei che dice, in risposta, tenendo presente queste cose e le cose che ha detto, in risposta all'accusa di razzismo su questo manifesto. Perché io l'ho sentita, anche in televisione l'ho sentita un giorno, l'accusa diceva, ma lei è razzista, perché... Se il razzismo si esprime con il fatto di impiegare anche marittimi extracomunitari, ma con contratto italiano, la prova è che questa è la nostra realtà. Cioè noi non andiamo a fare discriminazioni fra l'italiano e l'extracomunitario. l'italiano e l'extracomunitario restano persone. Ma però, direttore, non dobbiamo dimenticare che nel nostro paese, nella nostra Italia, ci sono 60.000 marittimi a casa. Quindi il voler privilegiare l'imbarco di marittimi italiani non può essere sentita come una colpa. Allora se c'è un privilegio in questo, allora noi siamo razzisti. È come se ci fosse una lista enorme di disoccupazione professionale, cioè una disoccupazione fatta da tecnici, da persone che sanno fare quel mestiere, che viene scavalcata. Questo è chiaro. Lei lo ricordiamo Sicilia, Sardegna, Elba, Tremiti, e poi c'è Malta, e poi la Corsica. Praticamente tutte le isole che circondano l'Italia come mezzo di comunicazione principale hanno la nave, quello più popolare, quello più diffuso, quello più usato, e voi siete con questi marchi su tutte queste rotte, no? Certo. E quali sono le rotte indispensabili e le rotte che potrebbero essere incrementate se ci fosse un'attenzione maggiore sulle vostre difficoltà, sulla vostra problematica da parte delle istituzioni? Guardi, il problema è che sul mare non c'è stata mai grande attenzione. Nella realtà oggi le compagnie armatoriali sono delle infrastrutture del paese, nel senso che il trasporto, per esempio, delle merci nord-sud avviene e sarà sempre di più attraverso il mare. Il problema è che c'è una vacazio normativa anche a livello europeo. Io torno sempre alla questione che mi sta a cuore, ma immaginiamo che tra l'Italia e la Corsia, cioè Italia-Francia, poche ore di navigazione, io teoricamente, perché viene comunque ritenuto traffico internazionale, potrei avere una nave con tutti i marittimi extracomunitari a bordo avendo un costo del 20% rispetto a tutti italiani. Per cui un'Europa unita nel mare, come anche in altri settori, non esiste. Ben cosa diversa in altre realtà come fra gli stati, fra i paesi americani. Perché diventa lotta economica, diventa subito lotta economica e quindi esiste questa regola, insomma, di una concorrenza anche un po' sleale. E poi ha citato la Corsica, ha fatto bene, perché è uno dei tratti più vicini alle coste italiane. In effetti è un paese straniero, ma è più vicino alla Sardegna, alle coste italiane. Credo che la distanza sia anche minore da tutti i punti di vista, da Genova o da Livorno. Voglio dire, lei però è impegnato su questa cosa del mare a tutto campo. Questa è l'attività da armatore. Ci ha raccontato le cose dell'armatore, abbiamo parlato della pubblicità. La sua famiglia è da tempo in questo settore, ci è vissuto dentro, no? Si può dire un uomo che è vissuto nel mare e nella problematica delle navi. In più ha affrontato anche un altro aspetto, che pure ha coniugato con la stessa problematica sociale. L'aspetto è quello sportivo, l'aspetto è quello di armatore di mascalzone latino. Lei sorride perché parlavamo di cose gravi e ora stiamo parlando di una cosa divertente. Cioè uno sport, una passione, un hobby. Però l'ha affrontato molto seriamente. Ci parli intanto di questa sua esperienza come armatore di mascalzone latino. Poi le faccio vedere una cosa e la commentiamo. Intanto è la vela. Siamo da quattro generazioni armatori. La vela mi è entrata nel sangue con mio padre, da piccolo in barca con lui. Da lì le regate, la fortuna di carreggiare sempre con i migliori in tutte le parti del mondo. Ed è una grande, questo devo dire, una grande lezione di vita. La vela, le regate e soprattutto il mare. Lei è socio di molti yacht club, cioè molti. Uno in Italia che è a Napoli, se non mi sbaglio Savoia. E uno a New York. Quindi è socio in diversi paesi del mondo, crede in questa attività. Ora le faccio vedere, però voglio spiegare anche quanto ci crede, non solo per il successo sportivo, per la vittoria, per il piazzamento, ma quanto ci crede alla base, alla radice di questa cosa. Le faccio vedere questo firmato che abbiamo realizzato sulla scuola di vela di mascalzone latino. Guardiamola assieme. Now'è! La mission della scuola Mascalzone Latino è quella di reclutare ragazzi a rischio delle zone, a rischio di Napoli Quindi cercare poi di attraverso lo sport della vela, di trasferirgli un po' quelli che sono i valori tipici dello sport E di dargli quindi una prospettiva futura diversa da quella che potrebbe invece attendere Io sono trovato con questi ragazzi che quando riesci a inserirti, a entrare nel loro mondo A capirli, a stimolarli nella maniera giusta ti danno veramente tanto Esattamente la soddisfazione è più grande Riusciamo anche a disciplinarli in maniera corretta Quindi insomma ti seguono, quelli che ti seguono e che riesci a recuperare in questo senso Sono veramente il nostro futuro Riusciamo anche a disciplinare in maniera corretta Onorato, siamo a Napoli, un ambiente difficilissimo Ogni giorno noi abbiamo cronache che hanno come protagonisti i ragazzi dell'età di quelli lì Poco più grandi ma alcuni proprio della stessa età E sono brutte cronache Voi prendete quei ragazzi lì o li prendete simili E tentate di fargli fare tutta una strada diversa da quello che abbiamo visto E da quello che abbiamo sentito Ci spieghi perché questa iniziativa? Come l'ha avuta e dove vuole arrivare? Vede direttore, tutti quanti si chiedono perché io sono così determinato E mi sono tanto esposto per i marittimi italiani La radice del problema è qui Noi portiamo questi ragazzi al mare Molti di questi sono vissuti in un perimetro di un chilometro quadrato Non conoscono il mare Alcuni non sanno notare Però bisogna offrire loro una prospettiva Molti, io sono convinto che diventeranno dei campioni di mela Ma in alternativa vanno a lavorare sulle navi italiane E continuano la nostra tradizione di marineria Che ci ha messo sempre ai vertici Dello shipping in tutto il mondo Allora la domanda è questa Faccio io una domanda a lei Se domani non c'è lavoro sulle navi Perché vengono imbarcati extracomunitari Ma io sottolino Sfruttandoli a sangue Stiamo parlando di 400-500 dollari al mese In tasca di questi poveri disgraziati Questi ragazzi che devono fare dopo? Non hanno prospettive La risposta è terribile Perché praticamente se domani non c'è lavoro sulle navi Questi ragazzi li avete fatto fare Gli abbiamo fatto fare Un giro sulla parte sportiva Sulla vela Divertente Ma poi vengono ributtati in mezzo alla strada Esattamente Questa è la paura che lei combatte Cioè è una iniziativa da sottolineare È la prima volta che questo firmato Lei si è pure stupito Perché non sapeva come era stato il girato Guardi, è stato il girato da persone che lavorano lì E che lo hanno fatto con mezzi molto semplici Smartphone, mezzi digitali Telecamere E poi lo hanno montato benissimo È già un lavoro professionale Ma mi sembra che anche la scuola che fate voi è professionale Gli istruttori sono Ed è a contatto con una realtà anche sportiva d'eccellenza Lei ha intenzione di proseguire pure con le regate Di Masca Alzone Noi siamo a quest'anno Siamo ancora campioni del mondo Proseguiremo E questi ragazzi molto spesso ci seguono Ma la vela per loro ha anche un'apertura di orizzonti Durante la mia carriera sportiva Ormai lunghissima Ho avuto modo di conoscere e contattare tanti yacht club Per cui ho creato dei gemellaggi I ragazzi quest'anno sono andati a Boston E hanno visto gli Stati Uniti per la prima volta Con questo che cosa voglio sottolineare? Che farli uscire da una logica di quartiere Strettissimo A volte come dicevo prima Un chilometro quadrato E portarli fuori a vedere quello che è la vita Il mondo Vuol dire aprire loro gli orizzonti Ma questi orizzonti Dopo si devono concretizzare in un'opportunità di lavoro Senta, si dice in questo momento Lei è un imprenditore Io adesso a parte tutta la specificità Il mare La parte da armatore Io le chiedo da imprenditore Tutti dicono Ci sarebbe bisogno di stabilità di governo in Italia E a che prezzo? E che cosa si rischia se non c'è una stabilità? Per queste domande che fate voi E che fanno tante altre categorie di imprenditori Che hanno un po' la stessa vostra difficoltà La mia sensazione Ma comunque da cittadino Da uomo qualsiasi È che ci sia da parte di una parte di politica Un distacco reale Sostanziale dall'esigenza della gente I partiti sentono veramente quello che pensa la gente Come vivono le persone Perché questa sensazione io non ce l'ho A lei sembra che non la siano lontani E magari la sentite più voi con questa scuola Con queste iniziative E invece dall'Europa Le faccio questa domanda Perché l'altro tema che ha citato anche lei Ma è vero È che queste cose molto dipendono anche Dall'assetto dell'Europa Se l'Europa è sensibile o non è sensibile a questo Guardi io sintetizzo la mia posizione Dicendo mai fuori dall'Europa Ma non in questa Europa Questa è un'Europa germanocentrica Che non tiene conto di quella che è la storia La tradizione del nostro paese Noi siamo cresciuti col debito pubblico Purtroppo certamente va corretto e va tagliato Ma se questo deve costare uno stop drammatico Delle attività soprattutto Per quanto riguarda le infrastrutture del paese Allora sotto questo punto di vista Non sono d'accordo Le faccio un'ultima domanda Che è interessante Perché riguarda la vostra osservazione dei fatti Alcune volte nel fare la cronaca Io ho quasi l'impressione Le cronache di tutti i giorni Queste dei migranti Di questi sbarchi Di questi battelli Delle organizzazioni che battono il Mediterraneo Delle marine anche straniere Che devono osservare quello che succede E poi non se ne viene mai al capo Ho quasi l'impressione Che il Mediterraneo Cioè un mare nostro, di casa Quello che lei ha fatto vedere È sotto casa Quello che con i traghetti si percorre avanti e indietro Si è diventato un po' una specie di far west Cioè si è diventato un mare in cui Può succedere di tutto E noi non ne siamo informati Un mare in cui la stanno facendo anche da padroni Un po' le forze organizzate di grande criminalità Internazionale Però avviene vicino alle coste di casa nostra Spesso poi sbarcano a casa nostra O vicino Ed è una cosa che lascia perplessi Perché uno pensa Ma come mai Con tutta l'osservazione che abbiamo Le nostre navi E la nostra marina E tutte le cose di capitaneria Non riusciamo a tenere questo mare sotto controllo Ma c'è anche un altro lato Non è l'oceano È chiaro Ma c'è anche un altro lato Sempre parlando delle navi italiane L'extracomunitario che viene a bordo Imbarcando solo col passaporto Ma chi è? Questa è la domanda Perché c'è anche un problema Soprattutto di sicurezza per il nostro paese Questo non si è tenuto conto Quindi quando lei direttore parla di una sorta di giungla In mare in questo momento nel Mediterraneo Ma soprattutto nel terreno È profondamente vero Ma non solo per quanto riguarda gli sbarchi Soprattutto per gli extracomunitari Che si trovano sulle nostre navi Ecco, non mi ha rassicurato Non volevo rassicurare Io aspettavo dal suo punto di vista Con tante navi in mare Una cosa che dice sì Però adesso non vi preoccupate E non mi voleva rassicurarmi E non mi ha rassicurato Ha fatto una fotografia Allora io la ringrazio La saluto Le faccio moltissimi auguri Ma non a lei La sua battaglia Se avrà successo Gli auguri sono ai marittimi Che oggi disoccupati potrebbero trovare lavoro E a quei ragazzi Che oggi In formazione Su una scuola di vela Potrebbero un giorno diventare